Il reparto rifinizione è il luogo dove una mente creativa e vivace aggiunge il tocco finale al prodotto per esaltarne la bellezza naturale. Uno dei metodi usati per applicare la rifinizione è lo spruzzo rotativo. Diverse pistole a spruzzo sono montate su un'unità che ruota continuamente sopra la pelle. In questo modo si possono ottenere disegni e colorazioni uniche ed originali. Quando la pelle è asciutta se necessario si procede alla stampa. Usando rulli incisi o intagliati si ottengono disegni ben precisi sulla superficie della pelle che spesso ne riproducono il fiore. Per ripristinare l'originale morbidezza ed il fiore della pelle si procede con l'operazione di bottalatura. Prima di essere consegnata al cliente la pelle è misurata con un macchinario di apposito. . 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 Grazie a tutti